Michelangelo da tutto il mondo per questo mondiale, qui in particolare due esponenti della Norvegia. Sì, buongiorno a tutti, siamo qui all'RDS Stadium per questo mondiale di Salsascheid. Abbiamo qui due atleti, una coppia che provenga dalla Norvegia. Dove sei? Da Norvegia. Oslo. Cosa danziamo? Salsa. Salsa couples. Tomorrow? Salsa couples. E cosa pensi di Genoa? È davvero bello, davvero bello. L'organizzazione e tutto è davvero buono. E perché Salsa? Perché ti piace? La musica. La musica. È un livello per noi. È più che solo una danza. È un livello. Salsa è una danza latina. E sei da Norvegia. Sì, anche in Norvegia danziamo Salsa. Molto bene. Grazie mille. È felice di essere qui.